Grazie Grazie Before we continue I'd like to introduce our band on stage tonight on guitar. Mr Charlton Pettis On keyboard, Mr Doug Hattie On drum, Mr Jamie Wollum e con i vocali, la sua e la sua Karina Rao questo молодo è Roman mio nome è Kurt, siamo Tears For Fears, grazie per venire Grazie a tutti 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 Grazie a tutti